Per l'amministrazione del tuo condominio, rivolgiti a Studio Amico, competenza, sedetà e professionalità. Richiedi un preventivo ai numeri in sovraimpressione. Tifosi sull'orlo di una crisi di nervi. Potrebbe essere questo il titolo di un documentario da girare per le strade di Capa dei Tirreni fino a giovedì. E senza dover scomodare il registro a Pedro Almodovar, ovviamente. Dal 26 di luglio, infatti, giorno del Consiglio federale, ad oggi, l'umore dei tifosi ha vissuto momenti di esaltazione ad attimi di vera e propria paura. Dalle parole di Gravina, che inseriva la Cavese in Lega Pro, alla notizia che la documentazione presentata dal presidente Campitello risulti deficitaria. Secondo indiscrezioni, infatti, alla domanda di ripescaggio presentata a Firenze, mancherebbe una parte del bilancio 2015, quella sotto la gestione Vertolomo. Documentazione che potrebbe, di fatti, escludere la Cavese dai giochi. Persone vicine al Patron parlano di un Campitello tranquillo, non come qualche giorno fa, ma comunque sereno. Ovviamente, giovedì, tutti i nodi verranno sciolti, e si capirà, finalmente, quale sarà la categoria di appartenenza. Tutti sperano del professionismo. In caso contrario, l'inferno del dilettantismo riaccoglierà nuovamente gli aquilotti.